Sindaco si avvicina un altro weekend, a che punto è l'ordinanza sulla movita? Allora guardate, se tutto va come deve andare, noi oggi pomeriggio approveremo una delibera su Galleria Laziale, quindi siamo in condizioni stasera di darvi notizie importanti su tempi e su quello che stiamo mettendo in campo e metteremo in campo nei giorni in cui ci dovrà essere il lavoro e domani mattina dovrei depositare l'ordinanza sulla movita. Quindi se non ci sono novità particolari, oggi pomeriggio delibera su Galleria Laziale e domani mattina delibera. Ovviamente non datela come notizia certa perché è un lavoro complicato, soprattutto sulla Galleria Laziale, ma anche sull'ordinanza che noi vogliamo cercare di fare un lavoro importante perché si possano dare delle risposte significative alla città che attende queste notizie da molto tempo.